L'Ucraina chiede a Gran Bretagna, Cina, Stati Uniti e Francia azioni efficaci per contrastare la minaccia del Cremlino di dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia. I quattro membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU dovrebbero convocare una riunione d'emergenza affrontando la questione direttamente con Vladimir Putin. La NATO, che parla di una retorica nucleare pericolosa e irresponsabile, ha fatto sapere che il piano sarà monitorato e che nessuna condotta da parte di Mosca al momento giustifica una reazione adeguata. Grazie